carissimi pace buona giornata dio vi benedica questa mattina che 31 maggio ultimo giorno del mese leggeremo con l'aiuto del signore nel libro dei profeti sei al capitolo 6 al verso 8 dove troviamo scritte le parole che dio pronuncia infatti sei afferma poi udì la voce del signore che diceva chi manderà chi andrà per noi isaia risponde eccomi manda me il messaggio che isaia udì nella presenza del signore non fu rivolto a lui in modo personale il signore in altre parole non dice ad isaia vuoi andare sei pronto ad andare il messaggio è impersonale chi manderò chi andrà per noi e ciò che notiamo è che il profeta sensibile evidentemente alle parole del signore capisce che lui qualcosa può fare e che se anche gli altri non dovessero fare nulla lui andrà infatti dice signore manda me non chiede compagni non pone condizioni non dice aspetta un po ma si dispone subito e non è la sua sicuramente una scelta dettata dall'emotività del momento ma è qualcosa che nasce dalla contemplazione dell'idio vivente dall'ascolto della sua voce ed è da qui che nasce quindi quella spontaneità che notiamo le profeta e questo è un grande insegnamento per la nostra vita tutte le promesse che noi possiamo fare a seguito di momenti emozionanti che viviamo sono promesse delle quali nel tempo ci pentiamo e in alcune circostanze proprio dimentichiamo non riusciamo a portare a compimento e questo riguarda non soltanto la vita in generale ma anche il nostro rapporto col signore e quindi quello che noi ci disponiamo a compiere per la sua gloria ma quando questa decisione viene presa nella presenza di dio nel contemplare la bellezza di dio nell'avere una chiara visione di chi è dio di quello che lui ha fatto di noi nell'avere udito con sentimento di timore di riverenza la sua parola allora non ce ne pentiamo non ci tiriamo indietro non ce ne dimentichiamo ma anzi ci impegniamo a mantenere costi quel che costi la promessa che abbiamo fatto al nostro signore allora stamattina quella voce si continua ancora a sentire ed è una voce ancora una volta impersonale chi andrà chi manderò dall'idea di un bisogno che c'è la messa è grande disse gesù gli operai sono pochi dall'idea di una situazione nella quale ci devono essere credenti impegnati ma dio non vuole forzare nessuno dio non vuole imporre nulla a nessuno dio desidera che ci siano degli operai nella sua messe ma questi devono essere volontari devono fare le cose in modo spontaneo per amore col desiderio di compiacere il signore e col desiderio di poter onorare il colui che li ha chiamati a quest'alta e superna vocazione e tu cosa vuoi fare questa mattina vuoi far finta di non udire vuoi dire ma il signore non mi sta chiamando personalmente il signore sta chiamando altri oppure dinanzi alla voce di dio che ti sta chiamando e che ti sta invitando a donare la tua vita i tuoi talenti il tuo tempo al signore vuoi prendere l'impegno di mettere da parte tutte quelle cose inutili tutte quelle cose che non edificano tutte quelle cose che ti dominano tutte quelle cose che fino a questo momento ti hanno impedito di poter servire il signore malgrado tu realizzi in cuor tuo che dio ti sta chiamando ad altro e non a quello che stai facendo che signore ci possa dare la determinazione di isaia il coraggio di isaia la forza di isaia il quale disse signore manda me ed io faccia sì che ognuno di noi possa essere un volontario nel campo di dio per poterlo servire secondo il suo piano e anche qui c'è qualcosa da considerare a isaia non viene detto cosa dovrà fare il signore infatti non sta chiedendo chi andrà a proclamare le mie parole chi andrà a compiere miracoli chi andrà a fare questo quest'altro e gli sta dicendo semplicemente c'è qualcosa da fare c'è qualcuno da mandare chi potrò mandare la scelta di isaia quindi è una scelta che non è dettata dall'incarico che gli sarebbe stata assegnata ma dal desiderio di poter fare la volontà di dio e tu cosa stai aspettando forse desideri servire il signore ma sei pronto a farlo solo se si tratta di posti di onore che magari ti mettono in luce che ti fanno brillare più degli altri se questo è il tuo sentimento vai a piedi del signore umiliati chiedi perdono e riconosci l'orgoglio che c'è nella tua vita e permette al signore di poter trasformare il tuo carattere in quello di cristo che fu umile e mansueto di cuore no noi non vogliamo servire il signore quando ci conviene quando ci fa comodo quando ne traiamo gloria personale ma noi lo vogliamo seguire e servire a prescindere iniziando dalle piccole cose anche perché come disse gesù chi è fedele nelle piccole cose lo è anche nelle grandi e senza sentirci mai troppo importanti per fare qualcosa che dio ci chiede e che noi consideriamo umiliante perché è sempre un onore un grande onore poter servire il signore chi andrà per noi chi potrà mandare possa ognuno di noi stamattina dire con cuore sincero e col desiderio di onorare dio signore manda me che la pace la grazia l'amore la presenza e la guida di dio ci accompagna ancora oggi dio ci benedica insieme